Sicuramente spero di riuscire ad entrare a medicina, a settembre ci sarà il test e passerò l'estate a studiare fondamentalmente. La messa di maturità saranno otto giorni con delle amiche in Corsica, dopo di che forse una settimana dai nonni giù in Calabria, ma dopo di che studierò. Sì, la mia famiglia viene tutta dalla Calabria. Devo dire proprio stamattina che sarebbero usciti Ungaretti e Sciascia e incredibilmente ho indovinato entrambi gli autori. Quindi sicuramente, poi ho fatto appunto quella su Sciascia perché non è che me l'aspettassi, però è come se avessi avuto questo presentimento. Le altre in realtà non me le aspettavo, molto bella quella sull'arte con il passo di Montanari, le altre invece non avrei detto questi argomenti. C'è stata la questione della tecnologia, però era anche giocata meglio da un punto di vista anche storico, quindi qualcosa che forse si legava a più aspetti.